questa è la nuova canzone di dotan ed è la canzone con la quale cominciamo questa nostra seconda ora insieme e come già annunciato abbiamo il piacere di presentarvi il nostro ospite di oggi che è Ermal Meta buongiorno Ermal ciao 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 buongiorno a tutti eccoti qui con l'occhiale da sole perché ti sei svegliato da poco confessa no 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 non da pochissimo un'ora e mezza fa dai va bene va bene sai Ermal che tra i capelli gli occhiali del sole se ti mettessi anche la mascherina si farebbe fatica a capire ma chi sarà quello dietro tutta sta roba mimetizzato proprio bene ritrovato siamo contenti di averti con noi e anche perché hai sorpreso un po' tutti col suono inconsueto della tua nuova canzone no satisfaction tra poco l'ascolteremo e vogliamo sapere intanto subito se è un'eccezione oppure se per il nuovo album hai lavorato in questa direzione un sound nuovo che fa venire anche voglia di muoversi proprio di battere il piedino ci sono degli episodi sicuramente nel disco che vanno in questa in questa direzione in realtà questo questo tipo di suono è qualcosa insomma è un territorio nel quale ero già avvezzo a stare perché nelle mie avventure precedenti soprattutto quando avevo la band insomma era era un suono abbastanza consueto soprattutto della nella parte live è una sorta di di ritorno tra virgolette a casa dal punto di vista di di suono poi sai si fanno tante cose diverse perché la musica è bella per questo perché puoi variare l'importante è far tutto bene con stile beh ci ci si prova dai ci si prova no beh insomma adesso senza falsa modesta pensiamo di poterlo dire senza dubbio è che magari la gente ha fatto l'abitudine ha fatto l'orecchio ecco diciamo più che altro alle sonorità delle tue ultime canzoni che sono state peraltro dei grandi successi non a caso per cui in un certo senso muove un po di stupore ecco questa una canzone come la satisfaction che propone qualcosa di nuovo di nuovo sarai tra i protagonisti del festival di sanremo una canzone di cui conosciamo il titolo un milione di cose da dirti festival di sanremo un barlume di normalità tornerai a vedere delle persone essere fuori una parvenza di normalità che magari speriamo insomma faccia da apripista anche per altre aperture naturalmente in sicurezza come la vedi beh assolutamente sì il festival di sanremo in questo momento è praticamente l'unico palco sul quale ci ci si possa salire quindi sono molto contento di di tornarci sono molto contento di di salire su un palco e di suonare con dei musicisti cosa direi fondamentale per per tutta la nostra attività di noi musicisti c'è anche qualche polemica qualcuno dice non dovrebbe svolgersi tu come rispondi ma io credo che si dovrebbe svolgere in tutta sicurezza però quindi la sicurezza è il primo posto ovviamente perché la cosa più importante è che non accada niente di più di quello che è già accaduto ecco di quello che continua purtroppo ad accadere dall'altra parte il settore dei lavoratori dello spettacolo secondo me necessita che che qualcosa in qualche modo si si muova e sanremo in genere è una di quelle manifestazioni che riesce a a creare i presupposti affinché poi si possa si possa avere un'attività di soprattutto di musica live in seguito dove dove molti molti tecnici del settore poi poi ci lavorano io mi auguro che tutto si svolga al meglio in modo tale che insomma ci possono essere i segnali di una di una ripresa che sarà sicuramente lenta certo però spero che ci possa essere un passo alla volta a parte le polemiche che possa essere l'esempio ecco per poter ricominciare anche l'attività nei teatri o comunque l'attività dei concerti anche seguendo magari perché no anche l'esempio in un certo senso di di sanremo è un palco sul quale torni se non sbaglio per la quinta volta perché la prima volta fu addirittura quando eri giovane giovane nel 2006 no con la fame di camilla avevo ancora 24 anni partecipato la prima volta un bambino poi ci sei tornato nel 2016 con le nuove proposte nel 2016 hai perso il 2010 questa è la sesta volta ah è la sesta hai capito addirittura quindi praticamente sei un abitué insomma poi hai avuto anche delle belle soddisfazioni perché il terzo posto convietato a morire che tra l'altro 58 milioni di visualizzazioni quindi un successo veramente incredibile e poi l'hai vinto con fabrizio moro quindi insomma oramai beh sì oggettivamente casa tua beh più che casa mia diciamo che è il luogo da cui è nata la mia la mia carriera artistica almeno agli occhi agli occhi dei dei più perché nonostante comunque io facessi musica da molti anni una opportunità del genere insomma capita capita raramente quindi a partire dal 2016 la mia la mia vita lavorativa quindi il mio percorso artistico è cambiato è cambiato notevolmente è certo sei diventato molto più famoso diciamola proprio come va detta no beh al di là di quello ho iniziato a a campare di musica come si dice no e non è certo e certo perché insomma sai musicisti lavorano lavorano anche in sordina per per tutta la vita cioè quello che è quello che è successo a me da quando ero ragazzino ho sempre fatto sempre fatto musica senza mai senza mai mollare però non è detto che comunque facendo musica riesci a vivere di quello di quello che fai per molti resta una passione quando esatto quando poi ci riesci cambia tutti ok finalmente qualcosa è accaduto poi non vuol dire che che cambi poi per sempre quella poi è una cosa che devi mantenere coltivare sostantemente devi coltivare mantenere con con il lavoro con con la scrittura e insomma quello che è quello di cui necessita hai un tour in sospeso nel frattempo io sono curiosa di sapere come sia la giornata tipo di ermal meta cioè sei uno che cucina che scrive schiavo di qualche serie tv cioè come lo trascorri il tempo mediamente no guarda io sono ho delle giornate molto noiose perché scrivo non non cucino perché insomma sono capace a fare soltanto due cose cioè due tre ma sì tipo pasta aglio olio peperoncino piuttosto che le basi sughetto così sì proprio sono sono veramente basico da quel punto di vista diciamo che se rimango solo in casa non muoio di fame però non è che c'è questa esplorazione del gusto ok bene quindi scrivi canzoni o scrivi anche che ne so un libro no fondamentalmente scrivo scrivo canzoni adesso mi sono un attimino fermato perché ho concluso il disco ai sette album pronti sì mi stavo mi stavo occupando della della parte tecnica quindi insomma la finalizzazione diciamo del dell'album e continuo a scrivere un libro che non so quando finirò allora c'è il libro a proposito del disco ermal siccome tu hai scritto per tanti illustri colleghi no non è che per caso in questo video ci puoi spoilerare se se per caso c'è in questo tuo nuovo album qualche collaborazione che valga la pena di essere no nel nell'album non c'è non c'è nessuna collaborazione ma questo non vuol dire che non ci siano collaborazioni più avanti ok magari in tour magari sì insomma ci facciamo raccontare un sacco di cose nuove adesso abbiamo scoperto che cosa cucina che sta scrivendo un libro più che cosa cucina tutte informazioni nuove cosa cucino non può essere una notizia sono talmente incapace ma anche guarda che anche un aglio olio e peperoncino insomma se fatto con la cura giusta dà le sue belle soddisfazioni collega la prima parte del programma su quello garantisco su quello sono il numero uno bravo vedi 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 che allora solo su quello però ermal senti facciamo una cosa intanto noi ti ringraziamo speriamo di poterci vedere quanto prima ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo per l'esperienza a sanremo aspettiamo il tuo disco nuovo e intanto ci ascoltiamo la canzone grazie ciao ermal grazie grazie a voi buona giornata ciao 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 ciao